Ciao, oggi vi faccio vedere tre idee da realizzare all'uncinetto per delle bomboniere originali. Tutte queste tre idee trovate il link del tutorial in descrizione. Partiamo dalla prima, parto già dicendo che partiamo da quelle più tradizionali e alla fine per arrivare a una sorpresa, una cosa un po' più originale. La prima è questa qua, molto classica ma veramente d'effetto. Si può ovviamente modificare con i colori che si preferisce, si mettono dentro i confetti e si può cambiare lo stile in base a quello che voi volete fare. Per una cosa più elegante appunto si può usare questi nastri o un bottone gioiello, oppure per una cosa magari un po' più rustica stare sul fiocchettino di spago o di raffia e usare magari un bottone classico un po' più giocoso. La seconda idea è un portachiavi in tricotenne con il cuore. Ora io ho fatto ovviamente questa idea qua che è molto versatile, è molto carina perché poi comunque è una cosa che bene o male chi la riceve direttamente o un amico, un parente o di solito anche i bambini, i figli, e le figlie lo usano perché comunque è sempre carino avere un portachiavi di questo tipo. Ovviamente il tutorial è fatto per la forma di cuore ma poi può essere adattata come idea ovviamente a lettere, numeri e mille altre forme. E arriviamo così alla terza idea che rimaniamo in tema portachiavi ma è molto più simpatica. Questa qua già si discosta dalle bomboniere tradizionali però l'ultima è proprio un po' diciamo per sorprendere gli invitati. Ed è questa qua, una piccola balenottera da sempre portachiavi che si può appunto legare al sacchettino con i confetti esattamente come il portachiavi precedente. Nel tutorial viene fatta senza le guanciotte rosa ma sono molto semplici da fare, basta dare due giri di ciniglia rosa per dare il dettaglio delle guanciotte. È un'idea molto simpatica e viene apprezzata tantissimo da bambini ma anche dagli adulti perché comunque è adorabile, non si può non amarla. E appunto è sempre un'idea portachiavi quindi viene comunque utilizzato o se non è utilizzato magari tutti i giorni tante persone lo usano ad esempio da tenere in macchina piuttosto che da appendere in macchina appunto o in ufficio o comunque se lo tengono lì come amichetto insomma. Sicuramente è una delle idee più originali. Gli amigurumi comunque in termini di bomboniere stanno spopolando quindi è sicuramente un'idea che fa colpo. Come sempre grazie, lascio tutti i dettagli in descrizione, fatemi sapere cosa ne pensate, qual è il vostro preferito. Ovviamente scrivetemelo nei commenti e iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche un tutorial. Grazie e ciao!